Come va e bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Partiamo subito con l'argomento di questo video. Le ricariche del reddito di cittadinanza di marzo sono partite per molte persone e le lavorazioni sono già state fatte nella notte del 24 di marzo. Così tra il 25 e il 26 di marzo la maggior parte delle persone e delle famiglie hanno visto le lavorazioni e poi gli esiti sul sito internet dell'Inps. Ho detto maggior parte delle persone e dopo vediamo perché. Questo vuol dire che molti potranno già prelevare i soldi che sono disponibili proprio sulla carta del reddito di cittadinanza alla posta. Ma la domanda è questa. Reddito di cittadinanza di marzo. I pagamenti per molte altre persone sono ancora bloccati e ci sono dei tagli, dei pagamenti. Che cosa è successo veramente? Molte persone hanno ancora le lavorazioni ferme. Sì è proprio così. Proprio come mi state scrivendo sotto i video con i commenti molti di voi ancora hanno i pagamenti tutti bloccati. Anzi addirittura mi pare di capire che molti non li vedono neanche. Questo vuol dire che ci sono ancora tantissime persone che non hanno ricevuto il pagamento del reddito di cittadinanza. Come vi avevo già detto nelle settimane scorse anche nelle dirette live che faccio il giovedì e la domenica. Anzi apro una parentesi per dirvi che appunto io vado in diretta live il giovedì e la domenica sera alle 9 e un quarto e poi il sabato sera sempre alle 9 e un quarto sul mio canale di youtube c'è la premier live con la rassegna stampa. Vi leggo le notizie di tutta la settimana. Chiusa parentesi. Quindi come vi avevo già detto nelle settimane scorse sembrerebbe che il motivo sia dovuto ai tagli delle ricariche che l'Inse ha iniziato a fare a tutti quelli che nel nucleo familiare hanno un familiare o un membro che percepisce una pensione di invalidità oppure prende degli altri pagamenti da parte dello stato o dei comuni oppure hanno dei trattamenti sociali. In pratica tutti quei tagli che sono già stati fatti anche nel mese di gennaio e che l'Inse non ha ancora riaccreditato nel mese di febbraio per problemi tecnici che ancora non sono ben stati chiariti questi problemi e che devono ancora essere pagati proprio nel mese di marzo. L'Inse in un comunicato stampa di febbraio aveva detto che questo adesso vi dico più o meno che cosa aveva detto si procederà quindi al ricalcolo delle rate nel più breve tempo possibile. A questo punto staremo a vedere che cosa vuol dire breve tempo possibile perché ad oggi non ci sono stati alcun non c'è stato alcun aggiornamento. Nel frattempo sono ancora in fase di ricalcolo tutte queste posizioni fiscali. Nel calcolare l'Isee 2022 ai beneficiari conservando la mensilità di febbraio l'importo del 2021. Non calcolare la riduzione dei trattamenti sociali considerando l'importo 2021 e non quello del 2022. E terzo non applicare la decadenza a febbraio pur avendo il beneficiario perso i requisiti reddituali o familiari o patrimoniali. Quindi in definitiva ad oggi molte di voi ancora non hanno visto nessun pagamento nessun esito nulla di nulla. Si spera che appunto nei prossimi giorni a partire dal 28 di marzo l'Inps poi si deciderà a effettuare tutti i pagamenti. Come sempre se vedete delle date diverse o avete altre informazioni oppure avete contattato l'Inps per chiedere quando come e perché sono stati bloccati piuttosto che avere delle date degli aggiornamenti fatemelo sapere qui sotto nei commenti così capisco che cosa sta succedendo in giro con l'Inps. Potete commentare qui sotto. Quindi il video finisce qui. Ti ringrazio per avermi guardato. Se hai delle altre richieste di video o altre informazioni che vuoi sapere basta che commenti qui sotto. E come sempre ricordati di iscriverti al mio canale qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità. Con questo è tutto. Ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. Ti aspetto. Ciao.